La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana hanno lo stesso significato. La Pasqua ebraica è celebrare la ribellazione dalla schiavitù, dall'ingiustizia, dall'oppressione con l'uscita dall'Egitto. Gesù, con la sua risurrezione, sconfigge chi l'ha ucciso ingiustamente. Quindi la risurrezione è la vittoria sull'ingiustizia, sull'oppressione, sulla schiavitù. La Pasqua ebraica è celebrare la gioia di essere popolo di Dio e che Dio si prende cura di noi. E la risurrezione di Gesù ha fatto nascere un nuovo popolo, perché la Chiesa nasce così. Tu ascolti l'annuncio della risurrezione di Cristo e ti commuovi e ti converti e chiedi di essere battezzato. La Pasqua ebraica ci ricorda l'inizio di un viaggio, il popolo per quarant'anni nel deserto in viaggio verso la terra promessa. E Gesù risorto ha inviato i discepoli a fare un viaggio, il viaggio missionario, fino agli estremi confini della terra. Che ha appunto come destinazione tutte le nazioni della terra e tutti gli uomini e le donne del mondo. E questo viaggio lo dobbiamo continuare oggi più che mai, che l'Italia, sappiamo, è una terra di missione. Per trasformare tutta l'umanità in regno di Dio e portare il Vangelo a tutte le persone. Gesù avrebbe voluto cominciare, lui direttamente, a realizzare il regno di Dio, ma è stato fermato dalla violenza umana. E allora, con la sua risurrezione, Gesù ha prima di tutto realizzato il regno di Dio in sé stesso. Ci ha mostrato in sé stesso ciò che saremo noi, ciò che saremo tutti. Ci ha manifestato il regno di Dio e ha dato a noi l'incarico di diffondere a tutti questa realtà. E lo possiamo fare perché Lui è vivo ed è con noi sempre. Questo è il realismo della risurrezione. Tu, cristiano, che hai Cristo dentro, se fai qualcosa nella società, ha un'efficacia che gli altri non hanno. Perché è Cristo risorto che agisce in te. E guardate la vita dei santi. I santi dimostrano questo. Le opere fondate dai santi, da Don Bosco, dal Cottolengo, eccetera, pensando solo ai nostri santi torinesi, sono ancora qui e sono più che mai fiorenti e continuano a fare i frutti. E se vai al Cottolengo oggi capitano quei fatti della provvidenza, proprio come ai primi tempi. Ecco, come mai? Perché i santi fanno opere di Dio, opere con la forza di Cristo risorto. Ecco, questo siamo noi cristiani. Ecco, per quello quando noi cristiani ci richiudiamo in noi stessi, nel nostro egoismo, nella nostra chiusura, ecco, facciamo un delitto tremendo. Perché noi abbiamo la forza di cambiare questa società. Ce l'abbiamo noi! E dobbiamo essere noi impegnarci. Sapete che il Papa, me lo ricordava Don Alberto l'altro giorno, nell'Apocalisse c'è una bellissima immagine. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, entrerò, no? Che vuol dire che Gesù vuole entrare nel nostro cuore, ma giustamente la maniglia ce l'abbiamo solo da dentro. E quindi lui bussa, non può entrare. Però, dice, qualche volta, Gesù è dentro e bussa, fatemi uscire! No? Portatemi fuori. Ecco, sappiamo che portare Cristo risorto è prima di tutto con la vita. Ecco, portare veramente... Noi abbiamo dentro queste attenzioni, questo sguardo di preferenza per i poveri, questo pregiudizio positivo sulle persone che sono nostri fratelli e sorelle, che siamo figli di un padre. Abbiamo questa realtà dentro, questo fuoco dentro. Basta che viviamo così, sui luoghi di lavoro, sui luoghi di vita quotidiana, e vedrete scatenarsi attorno a voi la rivoluzione cristiana. Quindi, capite, la Pasqua siete voi. E vorrei concludere con una bellissima poesia di un vescovo, Klaus Emmerle, che aveva veramente vissuto molto bene. Spero che un giorno lo facciano santo. Vi raccorderò poi una volta di questa sua figura. E lui parlava dello sguardo di Pasqua. Ecco, questo sguardo che Gesù ci dona. lo sguardo di Pasqua è guardare nella morte fino alla vita, e guardare nel peccato fino al perdono, e guardare nella separazione fino all'unità, e guardare nella piaga fino alla gloria, e guardare nell'uomo fino a Dio, e guardare in Dio fino all'uomo, e guardare nell'io fino al tu.